Si viaggia a vele spiegate, è il caso di dire e manca davvero poco, allo start previsto domenica della 18esima edizione del campionato invernale di vela d'altura città di Bari. Quattro le regate in programma, nelle acque antistanti lungomare a sud della città tre giornate e una regata costiera a nord di Bari che comincerà domenica e proseguirà il 19 febbraio, il 5 e il 19 marzo, con eventuale recupero il 26 marzo. Le classi partecipanti sono Orc Altura, distinta nelle categorie Gran Crociera, Crociera Regata e Regata, Orc Mini Altura e Libera. A illustrare i dettagli della rassegna sportiva nella sala giunta del Comune di Bari, l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli e i rappresentanti dei sei circoli velici organizzatori dell'evento. Circolo della Vera Bari, Cus Bari, Circolo Canottieri Barion, Lega Navale Italiana, Circolo Nautico Il Maestrale e Circolo Nautico Bari. Le iscrizioni sono aperte fino alle 19 di sabato. La cerimonia di premiazione è in programma il 31 marzo.